Diamo il bentrovato alla nostra ospite, è venuta a trovarci in studio quest'oggi la senatrice, il Movimento 5 Stelle, Paola Taverna. Buongiorno, onorevole, oggi la chiamiamo. Buongiorno, onorevole, benvenuta. Buongiorno, dopo il voto di ieri sento di potermi anche chiamare onorevole, avendo dato un voto contrario alla riforma della scuola, quindi va bene così oggi. Partiamo da ieri, onorevole Taverna. Cosa è successo ieri al Senato e perché questa riforma della scuola non piace né a voi né ai professori che ieri poi hanno inscenato fuori dal Senato una manifestazione anche per certi versi clamorosa? E questo già dovrebbe farci accendere la lampadina del sospetto, che non sono solo le opposizioni a dire che questa è una riforma che non va bene per la scuola, ma sono gli stessi insegnanti e se mi permettete dal punto di vista politico sono gli elettori del PD perché la scuola è notoriamente un settore vicino al Partito Democratico e se il Partito Democratico ha deciso di buttare via sia tutto a un buon seguito di suoi elettori, due milioni di voti e il futuro della nostra nuova generazione, io mi comincerei a chiedere se siamo noi che siamo strani che facciamo ostruzionismo o se strano un partito di maggioranza che va contro quello che poi è il suo mandato. Non dimentichiamoci che se sono lì sono lì perché qualcuno l'ha votato e l'ha votato in base ad un programma e il programma non prevedeva né la privatizzazione né tantomeno la presa in giro da parte del governo agli insegnanti. Si parla di 100.000 assunzioni, io l'ho visto su tutti i giornali ed è una grande menzogna. Ecco questo è un altro aspetto che volevo affrontare con lei, ieri telegiornali stamattina quotidiani di ogni tipo da Repubblica a Corriere, di varie chiamiamole fazioni anche se forse il termine è un po' anacronistico, parla di superpreside ridimensionato, 100.000 precari pronti ad essere assunti, qual è in realtà la cosa che veramente non va giù al mondo della scuola più che al Movimento 5 Stelle? Sicuramente non ci sono le assunzioni così come le stanno sbandierando, 42.000 assunzioni sono di un organico che doveva essere sostituito quindi erano obbligati a procedere alle assunzioni e i rimanenti sono appesi comunque ad un filo, si parla del 2016, ieri Azzolini che è il presidente almeno finché non verrà, anzi vedremo quello che deciderà l'aggiunta. Quello indagato di anni Cd, sì assolutamente, evito di dire in radio ciò che lui riferiva alle suore quando è stato intercettato, poi ha smentito, ha detto che non ha mai detto una cosa del genere. Tutti smentiscono, non ho sentito uno dire sì è vero che sono colpevole, però fino a prova contraria, infatti noi rimaniamo così un pochino nel dubbio, però è lui che sostiene comunque in aula che le coperture in realtà vengono prese da un fondo dove i risparmi che dovrebbero arrivare dall'articolato così come è stato strutturato per poi essere impiegati nelle assunzioni, in realtà non sono vincolati alle assunzioni, il governo si lascia la mano libera per poter decidere negli anni che cosa ci vuole fare. Oltretutto le assunzioni semmai verranno fatte, verranno fatte con il jobsat. E Guavi un po' si lega tutto insieme, è un jobsat che prevede tre anni, tre anni che sono gli stessi durante i quali il preside può giudicare l'operato dell'insegnante e decidere poi se rinnovare o meno quello che è l'incarico. E oltretutto un insegnante che viene giudicato da un preside, dai suoi colleghi e addirittura dagli alunni, voi mi dovete spiegare che tipo di figura stiamo presentando ai nostri ragazzi. Allora se io dovessi giudicare una persona che mi mette quattro, non credo che la giudicherei perché non sono preparato. Penso che è un insegnante che comunque è un po' affaziosetto, è uno che non mi sta tanto bene. Non va bene, la scuola deve essere un punto di riferimento per i nostri ragazzi. Assolutamente. Ma è vero che alcuni senatori del Partito Democratico hanno minacciato i professori di denunce di querele ieri? Sì, è verissimo. Noi a fronte di una grande mobilitazione che era sotto Palazzo Madama, in quanto senatori siamo scesi, abbiamo permesso l'accesso alle tribune a un numero di insegnanti, alcuni erano già all'interno, per far vedere cosa stava accadendo, per far sentire i stessi senatori che avevano per lungo tempo detto no, non voteremo, no, non vi preoccupate, questa riforma non passerà. Ieri fare grandi elogi e grandi inchini davanti a un governo ormai dittatoriale e giustamente credo che si siano sentiti un pochino presi in giro e quindi si hanno protestato. C'è una parola che è una bella parola di fatto, che però secondo me adesso sentirla pronunciare le farà venire le bolle, ed è fiducia. Tante volte in questi mesi abbiamo visto il governo comunque fare ricorso alla fiducia. Che effetto le fa? È frustrante? È frustrante. È azzerato quello che è il lavoro parlamentare. La fiducia è un istituto che blocca completamente tutto quello che è lo svolgersi regolamentare di una procedura all'interno del Parlamento. Quel provvedimento ricordiamo anzitutto che non era un decreto, quindi non era soggetto a decadenza, come di solito viene chiesta la fiducia perché il decreto dopo 60 giorni se non viene approvato decade, quindi è un tempo. Hanno continuato a dire che avevano tutta questa fretta perché dovevano garantire le assunzioni. Abbiamo chiesto facciamo lo stralcio delle assunzioni. Procediamo con la fiducia solo per le assunzioni e rimettiamo mano a un provvedimento che comunque è contestato. È contestato, aveva bisogno di essere migliorato. Avevamo presentato degli emendamenti, dovevano essere discussi, dovevano essere votati in commissione, dove il PD non era sicuro di avere la maggioranza che invece continua a mantenere in Parlamento, grazie a, come lo chiamavamo prima, NCD che è stato ribattezzato dal Movimento 5 Stelle, nuovi carcerati a destra, perché sinceramente non se ne salva più uno. E questo è il governo. Nuovi carcerati a destra. Però su questo io devo farvi complimenti perché la buona scuola diventa la buona sola. Questa l'ha creata lei. La buona sola è bellissima. La buona sola è un capolavoro comunicativo. Poi NCD diventa nuovi carcerati a destra, quindi ce n'è qualcun'altra? Sicuramente, adesso non mi viene in mente. Dobbiamo tirarla fuori perché sono dei veri e propri capolavori. Mi scusi se l'ho interrotta, le voglio fare due nomi, Fabio Lantinori e Lorenzo Battista. Gli ho dedicato un posto ieri, non ce l'ho fatta. Di solito abbiamo deciso che ignorare era il miglior disprezzo, ma ieri vederli passare, dopo essere stati eletti con il Movimento 5 Stelle, dopo aver dato fede a tutta una serie di impegni che noi avevamo preso con i cittadini. Passare là sotto la signora Anitori, ora con NCD, in giro con macchina e autista. E il signor Battista con Sutirolva Spartain, padrone dei 60.000 euro che vengono messi a disposizione del gruppo e poi ripartiti dai senatori. Però Sutirolva Spartain li dà direttamente al senatore così è più indipendente. è stato un attimo triste. Ma questi almeno, perché insomma io ho particolare antipatia, lo confesso in opinione mia personale, per quelli che vengono eletti con uno schieramento e poi passano in un altro, soprattutto in questo sistema elettorale. I voti sono stati eletti con una determinata... No, ma poi già sei stata Forza Italia, vai a NCD, posso anche capirlo, ma dal Movimento 5 Stelle che mi vai a NCD, tu mi devi dare solamente un motivo buono per cui l'hai fatto. Potrebbe essere lo stipendio? Assolutamente sì. Cioè, si accontezza per esempio se questi senatori continuano a tenere fede alla promessa legata allo stipendio che voi faceste? Non ne ho nessun riferimento, non ho visto bonifici, non ho visto neanche eventuali programmi di aver mantenuto fede almeno a quello. Quindi suppongo che prendano tranquillamente i loro bei 15-17 mila euro, secondo se fanno missioni, secondo se hanno incarichi. e ricordiamo che io li prendevo in un anno. E molta gente in Italia, forse 17 mila euro, neanche li prende in un anno. Hanno fatto dei conti... Un stipendio medio, più o meno. Hanno fatto dei conti ben precisi. Quindi 5 anni di legislatura probabilmente li rimetterà al riparo dalla sicura non è elezione, però gli garantirà un discreto gruzzolo per affrontare il seguito. Torniamo a Roma. Prima abbiamo fatto ascoltare l'audio di Daniele Frongia ieri, per la discussione, per la candidatura alle Olimpiadi. Anche lei è convinta che Roma non sia pronta per affrontare questa sfida di una candidatura alle Olimpiadi? C'hanno commissariata adesso il giubileo e noi andiamo verso le Olimpiadi. Ma dove andiamo? Io invito chi non è romano, perché i romani ormai lo vedono quotidianamente, di fare una passeggiata a Roma, specialmente se sono venuti 20 anni fa, di tornare a Roma e vedere che città è diventata. E fuori io chiedo a tutti quelli che stanno in Parlamento se sono mai arrivati a Porta Maggiore e sono andati oltre, perché io purtroppo vivo questa divisione dei ruoli. Io sono senatore da Porta Maggiore in su e ridivento Paola Taverna da Porta Maggiore in giù, perché sinceramente essere un rappresentante dello Stato, rendermi conto che abbiamo delle periferie che sono distrutte, abbiamo una città che la buca più piccola fa due metri per uno, è sporca, è piena di topi, perché uno dei tagli che è stato fatto al Comune è stato sulle derattizzazioni, una città che è attraversata dal Tevere, tu ovviamente vai a risparmiare lì, poi che cosa ti aspetti? È minimo che i topi ci camminano sui piedi. Una città dove non c'è la metropolitana... Grillo ha parlato del salto alla buca e della caccia al topo, come è possibile il sport. Sì, c'è pure il tiro della mazzetta, ci sono vari sport che abbiamo... Il tiro della mazzetta qual è? È il tiro della mazzetta che faranno per aggiudicarsi i vari appalti. Ah, come sport olimpico, il tiro della mazzetta. Ci sono dei campioni, eh? Ci sono... E infatti avete dei geni... Noi, ma stanno ridicoli, adesso, ma non da parlamentare, da cittadina, ma dove andiamo? All'Olimpiadi, contro Parigi, ma questi viaggi se li vanno a fare per cosa? Io gli gradirei che andassero a fare un viaggio in Grecia, visto che qualcuno si è permesso di mandare video dove ci sono i balletti e dove ci sono le persone che dicono che in Grecia i cittadini non pagano le tasse. Andassero negli ospedali in Grecia, andassero a vedere come stanno messi. E facciamoci un esame di coscienza se siamo noi una città che può ospitare un Olimpiadi. Roma, a parte che secondo me i soldi stanziati arriverebbero sì e no per fare la discesa degli atleti dalla scaletta dell'aereo. Soprattutto se i rapporti tra governo e marino restano quelli che sono, insomma, sarà difficile... Ma sono tutti e due dello stesso partito. Sono tutti e due dello stesso partito. E questi sono i rapporti che c'è tra il presidente del Consiglio e il sindaco di Roma, della capitale. Si immagina i rapporti interni del partito stesso. Ma questa guerra nel Partito Democratico, secondo lei, Taverna, è vera oppure è un po' creata anche ad arte per avere una faccia buona e una cattiva da ostentare a seconda delle situazioni? Metà e metà. Secondo me è un po' schifo, da solo si fanno, sinceramente. Perché poi credo che a tutto ci sia un limite. Quindi se tu sei una persona che si è riconosciuta in degli ideali che nel tuo percorso ti hanno portato a far parte di un partito pseudo di sinistra, oggi ti trovi ad essere un partito di estrema destra, quindi un minimo di dubbio morale, credo che ce l'abbiano sinceramente. Poi i balletti dei vari Ci stacchiamo, la minoranza DEM, i nuovi civatiani, credo che siano una costruzione ad hoc per ripresentare alle prossime elezioni un nuovo comparto di sinistra che però sarà obbligato a fare una coalizione perché con il nuovo Italico, una delle tante porcate fatte da questo governo, dovranno andare necessariamente in un grande listone per potersi assicurare il nuovo posticino sulla poltrona. Sostanzialmente stanno evitando che qualche voto a sinistra si sposti verso il Movimento 5 Stelle, quindi creando un nuovo spazio per gli elettori di sinistra per poi rifagocitarlo nel momento dell'elezione. La stessa maniera per la quale Forza Italia ha fatto la Bad Company, NECD era la Bad Company di Forza Italia, ci ha messo là dentro tutta una serie di gente improponibile a partire dal Ministro degli Interni Alfano e ha creato questo surrogato di stampella per il governo mantenendo loro una figura pseudo pulita di rappresentanti ancora della destra, ma è tutto un balletto. Ma perché mi sottovaluto al nuovo centrodestra tra Alfano, Arsolini, Castiglione, che altro c'è? Lupi? Perché ride? Prende un sacco di voti, soprattutto in alcune regioni il nuovo centrodestra. Certo. No, no, no. Sul nuovo centrodestra non lasciamo. No, ma non sono proponibili. Non sono proponibili. Ne hai nominati quattro, io gli altri neanche so come sono fatti, vengono lì a mettere un voto e sono presenti esclusivamente per il voto. Ieri credo che non abbia parlato nessuno. Ieri non ha parlato neanche il Ministro dell'Istruzione. La Giannini ieri non ha proferito parola. Un Ministro che viene lì, fa una riforma che sconvolge tutto, oltretutto una riforma che prevede otto deleghe in bianco. Questa cosa chiariamola, oltretutto. Otto deleghe in bianco significa che noi siamo stati costretti, loro hanno dato la fiducia a un governo che dovrà poi regolamentare quelli che sono il contratto collettivo del lavoro. Non lo sappiamo come verranno poi inquadrati. Non sappiamo come sarà gestita la scuola dai 0 ai 3 anni e dai 0 ai 6 anni. Vogliono fare tutto un gran calderone, vogliono togliere materna infanzia, vogliono mettere tutto quanto insieme. Queste sono cose che arriverà la delega del governo buttata là sopra e tu non puoi fare niente. Questa la chiamano una riforma parlamentare, una riforma fatta da una Repubblica democratica. Questo è un regime di dittatura. Chiudiamo un attimo la parentesi dedicata anche alle Olimpiadi perché d'altra parte c'è chi dice tra i favorevoli che non possiamo fermarci, non possiamo non provare, non possiamo non accettare questa sfida anche perché potrebbe essere l'occasione per portare a termine quelle tante opere che abbiamo lasciato lì e dargli il nuovo valore. Ma perché abbiamo bisogno di un'occasione per pretendere una metropolitana a Roma? Ma siamo fuori. Ma noi dobbiamo pretendere che questi terminino le opere, che risistemino la città, che diano una dignità ai cittadini romani di potersi dire ancora gli abitanti della capitale e poi andassero a casa, eventualmente riescono a farlo in questo momento visto che i soldi li hanno amministrati loro e permettessero veramente di proporci in maniera credibile al resto del mondo. Non siamo credibili. Ma voi pensate che qualcuno quando vedrà la richiesta per la nostra candidatura non si farà ricche risate? Ma forse non abbiamo idea di come ci vedono. Iadi hanno accolto Bill De Blasio però il sindaco di New York con Celentano invece che con Lino d'Italia. Sì, abbiamo avuto modo di ascoltarlo ma ha visto però Bill De Blasio il sindaco di New York che ha twittato a favore di Marino ha detto benvenga l'azione governativa di Marino contro la corruzione. Io l'ho scritto Anzi è che ha passato c'è tutto un giro poi è un fake sì, è un fake secondo me però chiudiamo poi veramente anche il discorso Olimpiadi c'è Montezemolo che dice che Roma 2024 è una grande occasione di riscatto. Noi siamo nel 2016 e siamo sinceramente evito di dirlo in radio ma quella è la condizione nella quale siamo tutti quanti il 2016 mi viene in mente Mario Brega quando incontra il figlio con le pezze al semaforo Esatto no noi non cioè non dobbiamo fare volipindarci né tantomeno far finta che siamo ancora la città che si può permettere di fare una candidatura per le Olimpiadi è fare finta noi dobbiamo puntare sulla trasparenza dobbiamo puntare sull'onestà dobbiamo darci una ristrutturata seria e poi forse tentare di di vivere di far vivere Roma no? Le Olimpiadi le Olimpiadi sono solamente un'altra possibilità di far mangiare queste persone 334 92 29 505 il numero per gli sms ovviamente potete inviarci anche i vostri commenti le vostre domande per Paola Taverna che ve lo ricordo resterà con noi oggi a CG Regione fino alle 11 sugli 89 100 in FM a Roma e nel Lazio della Radio dell'Università degli Studi Niccolò Cusano che vi ricordo potete ascoltare anche dall'applicazione scaricatela agli store di riferimento è gratis così potrete ascoltare la nostra radio anche sul vostro smartphone e sul vostro tablet e vi ricordo che stamattina siamo in compagnia fino alle 11 di Paola Taverna senatrice del Movimento 5 Stelle adesso cominciamo a parlare un po' di mafia capitale che sono tra le parole più pronunciate a Roma proprio negli ultimi mesi prima abbiamo uno sguardo i messaggi che arrivano copiuti al 334 92 29 505 c'è Lino che scrive sento la senatrice che è particolarmente critica ma una cosa positiva c'è a Roma? finché lasciamo Roma in mano al PD a Marino e ai mafiosi no purtroppo non c'è quasi nulla di positivo ma lo dico con con tristezza perché io sono romana però vivo la scuola vivo i trasporti vivo la sanità e purtroppo Roma no non va non va assolutamente bene e poi ancora mi piace l'onorevole Taverna concordo con tutto quello che ha detto finora va detto che i pionessi sono stati deputati del Movimento 5 Stelle che hanno realmente rimezzato il loro stipendio per quanto riguarda i parlamentari che all'improvviso cambiano bandiera credo sia giusto vadano a casa poi ad altre azioni si presentano con la nuova bandiera bisogna fare una legge che imponga che ciò non possa accadere credo sia urgente perché vediamo come vanno le cose e poi fai complimenti alla radio grazie ci vorrebbe secondo me una legge per evitare qualcosa del genere ma in realtà questo è sanceto dalla Costituzione credo che i nostri padri costituenti avevano in mente una classe dirigente molto più onesta eticamente e moralmente migliore di quella alla quale siamo resenti ragazzi parliamoci chiaro è anche giusto che un parlamentare non abbia un vincolo di mandato perché sarebbe controproducente nel senso opposto guardiamo quello che accade nel PD d'altronde dovevano essere i critici del PD a sentirsi liberi di dare un'espressione differente e lo potevano fare e dovevano farlo in piena coscienza quindi il principio di base sul avere probabilmente è questa politica attuale che svilisce il ruolo del Parlamento cioè sembra quasi che certe decisioni non vengano più prese in Parlamento e diventi assolutamente un ruolo di mera esecuzione togli il sembra se tutto va avanti a colpi di fiducia purtroppo è così considerate che ieri la fiducia è stata messa su un maxiemendamento che a noi è arrivato circa tre ore prima 36 pagine la riscrizione completa la riscrittura completa dell'intero articolato è arrivato tre ore prima senza possibilità di subemendare senza possibilità nemmeno di far valere quelle che erano le critiche della bilancio sulla presunta copertura perché con l'istituto della fiducia la copertura non è più di rimente del passaggio o meno dell'articolato ma diventa esclusivamente un consiglio non vincolante quindi operano in piena illegittimità e poi permettetemi di dire solamente questa cosa quando vengono fatte quattro istanze di incostituzionalità su questo procedimento e una la più importante ma dal punto di vista umano la nostra costituzione dice che le scuole possono essere private ma non debbono usufruire degli aiuti dello Stato per un concetto molto semplice lo Stato deve preoccuparsi di dare la possibilità a tutti di essere istruiti e di avere la stessa qualità quindi considerare che sono stati fatti degli sgravi fiscali per coloro che mandano i propri figli nelle scuole private equivale a dire che tu paghi le tasse e parte delle tue tasse va a contribuire alle scuole private e questo è incostituzionale e se sei in un Parlamento dove a fronte di una palese incostituzionalità devi aspettare quattro anni come è successo con la Fornero per avere la Corte Costituzionale che dirà che questo provvedimento non va bene ti rendi conto che il luogo deputato a fare le leggi è il primo che non rispetta la gerarchia delle leggi non ha rispettato la Costituzione ma è su tutto è veramente su tutto è abbastanza vergognoso quello che fanno là dentro impuniti impuniti secondo lei il governo avrà ancora a che fare nel futuro immediato e non con la Corte Costituzionale per altre scelte prese penso magari proprio alla scuola o anche al Jobs Act sì sì ma al Jobs Act ma anche la legge elettorale la legge elettorale per quello che è uscito dalla consulta e per quello che era stato dato come indicazione per presentare una nuova continua ad avere dei parametri di incostituzionalità i listini bloccati loro dicono che sono corti ma che vuol dire comunque sia tu nomini il capolista lo nomini bloccato è chiaro che tranne il partito di maggioranza che vedrà poi un 30-35% di eletti perché sono stati indicati il resto saranno comunque tutti nominati un Senato fatto con elezioni di secondo grado che può mettere bocca sulle riforme costituzionali è incostituzionale la stessa riforma del Senato rischia di avere dei profili di incostituzionalità i soldi dati alle banche gli sgravi fiscali alle slot machine cioè questi sono dei delinquenti non sono dei parlamentari ecco a proposito di delinquenti dicevamo parliamo un po' di mafia capitale che sono le due parole più pronunciate soprattutto a Roma non solo e nonostante questo però si è aperto anche un dibattito proprio su queste due parole perché da una parte c'è chi dice non si tratta di mafia perché si parla di larga corruzione e c'è chi invece dice guardate che adesso la mafia è la mafia dalle mazzette insomma io ricordo le parole di Pignatone quando la definì originale ed originaria si chiuse qui questa discussione con le parole di Pignatone se questi vogliono farci credere che la mafia è ancora quella con la coppola la lupara giù in in Sicilia abbiamo ben chiaro che è cambiata completamente la mafia era quella romana era quella strutturata con le cooperative rosse e bianche era una mafia che aveva un braccio armato caratterizzato da carminati è una mafia che aveva ingerenza importante su tutte quelle che erano le strutture che appartenevano sia al comune che alla regione ci sono le intercettazioni ci sono implicati esponenti del PD esponenti di Forza Italia se non vogliamo chiamare mafia questa che lucrava su quelle che poi sono la cosa più disgustosa neanche sui grandi appalti neanche sulle grandi opere che tu dici da questa a me da questa a te se l'Expo non è venuto così bene fino a prova contraria non è che ci hanno tolto la sanità ma questi hanno lucrato sul bisogno delle persone hanno lucrato su Roma hanno lucrato sugli immigrati ci hanno fatto credere che il nostro problema è che a Roma c'erano i campi nomadi quando milioni e milioni di euro sono serviti io leggevo le intercettazioni rimango sconvolta cioè proprio sentire Buzzi che parla con Casa Monica che gli dice addio a quelli di non scocciare quando inseriremo altre 30-50 persone in quel campo Roma anche se non c'è più spazio perché comunque devono darci i finanziamenti e io quando sono stata contestata a Tor Sapienza e sono stata contestata dai studenti ricordiamo quei giorni caldissimi però io vorrei ricordare che Tor Sapienza la situazione è identica ci sono roghi nel campo Rom che ancora ieri sera c'è una situazione insostenibile stanno chiudendo i teatri il teatro di Torbella Monaca il teatro del Quarticciolo Roma è questo e Roma è questo perché sui bisogni dei cittadini sui soldi stanziati per risolvere queste problematiche le cooperative appartenenti a PD Forza Italia PDL adesso non so più come si chiamano quelli di destra ci sono anche i riformisti e i conservatori che poi si chiamano CRI tanto aboliscono la Croce Rossa Italiana adesso la privatizzano quindi si sono appropriati anche della sigla c'è Maurizio Bianconi c'è Maurizio Bianconi che è il nostro idolo idolo no è un nostro ogni tanto lo ospitiamo è un simpaticone questa è è la situazione romana e io credo che non ci sia niente da ridere se si chiede lo scioglimento per mafia anzi credo che Gabrielli che oggi ha in mano tutta una serie di indicazioni avrà un duro compito se decidere o meno che Roma debba essere sciolta per mafia e qui ricordo una dichiarazione di Marino proprio all'indomani della seconda ondata d'arresti quella che è arrivata qualche giorno fa c'erano tanti giornalisti che poi c'è da dire che comunque gli fanno sempre le stesse domande quando lui inseguono lui scappa e a un certo punto però si gira e dice ma anche voi avete sonnecchiato in questi anni io da qui nasce una curiosità la politica l'amministrazione anche della città ha gli strumenti per evitare che queste cose avvengano perché insomma noi siamo abituati a vedere il giornalista di inchiesta che arriva come possiamo fare l'esempio di Lirio Abbato che aveva descritto in tanti aspetti quello che stava accadendo a Roma ma veramente parlava di un paio di anni prima cinque anni prima perché la sua inchiesta sui re di Roma è tipo del 2012 2013 poi arriva la magistratura e poi arriva la politica ecco la politica ce l'ha gli strumenti per evitare questo certo noi abbiamo il nostro consigliere Frangia che sono due anni che ha messo mano al bilancio del comune di Roma e non c'è pagina dalla quale non sia nata una mozione ricordiamoci che anche l'ultimo scandalo degli appalti per il rifacimento della sala interna al Campidoglio erano comunque stati gestiti in maniera non trasparente e sono soggetti ad indagine quello che non si è voluto vedere da parte della politica non si è voluto vedere era un interesse di tutti mantenere lo status così inamovibile anche perché se questi non risolvono i problemi noi avremo sempre più bisogno di qualcuno al quale chiedere il favore per risolvere i nostri quindi la loro politica è non risolvere i problemi questo gli permette di mantenere una rendita di posizione per la quale tu sarai sempre soggetto ad andare da loro e chiedere il favore le famose carte messe una sotto all'altra finché tu non vai lì e dici per favore posso avere la mia pratica svolta ma è un favore che ormai ti fanno noi non abbiamo più uno stato di diritto e Roma funziona così una cosa che però colpisce particolarmente in relazione a mafia capitale in tanti compreso il movimento 5 stelle se non sbaglio chiedono di tornare alle elezioni io però facendo due conti ho visto che tutti quelli che a Roma sono finiti in qualche modo tra le carte di Pignatone indagati o comunque citati a vario titolo sono tutti quelli più votati e questo è inquietante da una parte infatti sono anche tutti quelli che appartenevano ai circoli che Barca ha fatto chiudere perché se i circoli romani servivano per prendere voti e quelli che sono più votati erano coloro che poi davano i vari appalti a Buzzi e Carminati ma da chi erano votati? i circoli romani del PD servivano esclusivamente per fare delle trattative pre-elettorali tu mi porti tanti voti io ti do tanti appalti io ti sistemo Tizio ti sistemo Caio ma non ce le siamo ricordate le chiamate dirette quando c'era Alemanno in Ama e in Atac ma secondo voi una chiamata diretta ma viviamo a Roma viviamo in Italia o facciamo finta di no? cos'è una chiamata diretta? qui la gente si muore per avere un posto di lavoro e poi si scopre che Tizio e Caio ci hanno una chiamata diretta potranno mai essere davvero una soluzione da questo punto di vista? cioè il timore è che vincano sempre questi che abbiamo sempre quei 6, 7, 8 mila voti perché tanto hanno 6, 7, 8 mila persone c'è questa paura come d'altra parte c'è anche la paura e torniamo anche al discorso di prima che poi di fronte ad una situazione corrotta come viene denunciata adesso anche dall'amministrazione stiamo lavorando per ripulire questa situazione anche dal punto di vista del personale della dirigenza del comune che la prossima la prossima amministrazione si trovi di fronte sostanzialmente alle stesse problematiche allora ci sono delle piccole misure correttive che noi abbiamo messo in atto dalle nostre prime candidature che a volte ci prendono in giro perché ci vedono come degli idealisti ma così sciocchi abbiamo dimostrato di non essere quando noi abbiamo detto che non ci si poteva candidare se non incensurati e che bisognava fare due mandati e poi a casa è chiaro è lampante che tu vai ad eliminare tutta una serie di persone che comunque hanno dei profili per i quali non è giusto che tu vieni ad amministrare una città ricordiamoci che per essere assunto come bidello tu devi avere la fedina penale pulita invece per fare il parlamentare non è indispensabile quindi già questa è una leggera discrepanza sulle regole di base per far parte della pubblica amministrazione che fa riflettere e due mandati e poi a casa poi esci fuori esci fuori e quello che hai fatto là dentro te lo ritrovi se invece tu sei bello sicuro che finché stai là dentro fai il comodo tuo non hai né nessun interesse né di fare bene fuori perché toglieresti quello che è il tuo pane quotidiano la gente che ha bisogno di te tu entri là dentro e cominci a dispensare favori la gente ha bisogno che tu risolva i propri problemi se non lo fai in maniera legale lo fai in maniera subdola e continua a votarti e poi chi oggi ancora non va a votare dicendo che non c'era un'alternativa signori l'alternativa io non sarò di parte però c'è il Movimento 5 Stelle sta dimostrando di voler essere un movimento di cittadini io farò due mandati che poi fortunatamente vado a casa sarevo viva al primo mi fa forse il secondo ma è tutto da vedere quindi dopo di me ci saranno altri cittadini che hanno voglia di portare avanti l'onestà l'onestà e trasparenza perché non riprenderci questa città questo paese ma da quando hai entrato in senato lei mai ha ricevuto qualche richiesta strana qualche proposta strana a Taverna sono pazzi non ci provano nemmeno no non ci provano l'unica qualche abboccamento qualcosa no sinceramente no l'unica che stava dicendo l'unica cosa poco carina è stata durante una gorà era da poco stato fatto il discorso su Berlusconi un signore si è avvicinato e mi ha detto ma tu non hai paura che io lì tutta no perché l'onestà la mia scorta i cittadini questo mi ha guardato e mi ha detto sì in effetti finché non ti dicono che bel bambino che hai a che ora esce da scuola sì puoi anche non aver paura lì è stata una sensazione è un po' pesante io infatti sono andata a cercare un agente ma chi era questo? non lo so non lo so questa è una minaccia bella e buona sì ma verso i gnoti non so chi fosse non l'ho più rivisto però sì ma in che contesto era? era una gorà era una gorà mi si è avvicinato in mezzo alla gente e mi ha detto queste cose ti fa strano perché io non ci penso io non penso mai che qualcuno possa certo minacciarmi o farmi delle ritorsioni perché sinceramente non faccio gli interessi di nessuno e se a qualcuno non piace che faccia gli interessi del popolo italiano il problema per me rimane il suo non può essere il mio però non so quanto stiamo rompendo le scatole nelle intercettazioni noi eravamo i rompicoglioni no? credo che siamo gli unici che siamo stati intercettati per avere questo ruolo abbiamo parlato anche del sindaco di Pomezzi ha definito da buzzi l'incorrutto abbiamo provato anche a corromperlo noi l'abbiamo ospitato ci abbiamo provato in tutti i modi ma niente abbiamo chiesto 5 posti auto al centro di Pomezia in caso di viaggio alle Maldive ma non c'è stato abbiamo cercato di corrompere anche qualcun altro offrendo di intervenire tutti i giorni con le domande già pronte niente non è sempre del 5 stelle perché secondo me se lo fai a qualcun altro sempre del 5 stelle lo troviamo anche con Taverna domande allora interviene tutti i giorni 5 domande a piacere se le scrive lei le domande se le scrive lei e noi facciamo le domande su facebook e noi gliele facciamo un buono per entrare nel in cambio è un bel buono non ci fate entrare a mangiare nel ristorante del senato no in cambio no madonna mia è una cosa terribile il ristorante del senato perché? una mensa pensavo che dicesse un'altra cosa per un attimo una mensa una mensa una mensa brutto poi li ritrovi tutti lì tutti seduti al tavolo uno vicino all'altro noi poi abbiamo sempre questa sensazione di essere da parte perché ci mettiamo sempre insieme siamo solo noi sempre noi d'altronde che con questi c'è poco da spartire anche quando ti metti a tavola tra poco parliamo di Ostia perché domani sarà una giornata importante e tanti intanto i messaggi che stanno arrivando al 334 92 29 505 adoro Paola Taverna non mollate mai Monica ci scrive appunto un'ascoltatrice e poi c'è Cinzia che le scrive le iniziative sulla rotazione dei vigili urbani e la fuoriuscita di Cerroni non vanno bene? perdonami ma non no questa domanda questa notizia non l'ho letta non so dire che cosa probabilmente fa riferimento alla chiusura di Malagrotta che poi in realtà tanto chiusura non è stata Cinzia spiegati meglio 334 92 29 505 inviaci un messaggio un po' più un po' più approfondito e sicuramente lo gireremo all'onorevole Taverna che studio con noi e rimarrà in studio con noi fino alle 10 tanti messaggi di complimenti insomma andate avanti fino alle 11 scusa andate avanti continuate così ecco che effetto vi fa questa cosa Taverna io non credo che siano tanti i parlamentari che comunque tra la gente hanno questo questo favore questo non penso che qualcuno per strada le urli mai magnate pure questo non le hanno mai tirato delle monetine come accade invece a suoi colleghi quello è il mio stipendio quando io mi trovo in mezzo alle persone le persone mi ringraziano per quello che stiamo facendo mi danno dei consigli si sentono rappresentate quello è effettivamente quanto io desidero guadagnare da questa da questa attività come è cambiata la sua giornata tipo da prima di entrare in politica una fatica una fatica in mano è cambiato tutto è cambiato tutto io ero una persona assolutamente semplice facevo un lavoro per il quale mi alzavo alle 6 di mattina lavoravo in poliambulatorio medico analisi cliniche quindi alle 7 eravamo già operativi ho un bambino di 12 anni sono una donna con un bambino quindi oggi faccio anche il parlamentare ma fondamentalmente è molta fatica fisica e mentale ho ripreso a studiare mi sono insegnata all'università perché credo che sia un dovere essere preparati per poter degnamente fare gli interessi del mio paese e non è mai troppo tardi l'altro giorno abbiamo ospitato una signora di 84 anni che quel giorno ha fatto l'esame di terza media perché era il suo sogno che bello bellissimo bellissimo questo è il consiglio che do a tutti i ragazzi non smettete mai di studiare non è mai il momento buono per smettere ma forse è sempre il momento buono per ricominciare o cominciare e ancora in compagnia di Paola Taverna che è prontissima perché adesso io devo farle 5-6 domande molto delicate è pronta? cominciamo dalla prima qual è il suo piatto preferito? cos'è che le piace particolarmente? la minestra con l'indivia la minestra con l'indivia è una cosa particolare ma che risposta una risposta da grillina la minestra la cosa fritta no perché me la fa la mamma perché ormai non ha più tempo di cucinare di fare nulla quindi io quando torno a casa mia madre riesce a farmi trovare queste minestre sono una minestrara non era questa la domanda comunque la parmigiana di melanzana le piace? sì allora alla cena con amici è una cena con amici e resta l'ultima fetta di parmigiana lei che cosa fa? si butta a precipizio sulla pietanza stiamo facendo un test facendo un test un test che gira su internet però non le diciamo che testa va bene se non lo farebbe se glielo dicessimo non lo farebbe mai si butta a precipizio sulla pietanza infischiandosene degli altri chiede alla persona che a fianco se ne vuole metà così si sente poi la coscienza a posto la vuole ma temi di passare da ingorda e allora tentenna chiede ai commensali chi vuole dividerla perché è giusto fare un po' per tutti o lascia perdere e prende l'insalata no no chiedo se la dividiamo se poi sono bravi e non la divido non la mangio però no chiedo se ne vogliamo un pezzettino per uno cosa viene prima di tutto secondo lei la popolarità la famiglia non lo so il potere o gli ideali in cui crede io qui quasi quasi già metterei da solo la risposta domanda molto delicata molto delicata c'è la famiglia e gli ideali che per me sono due punti quasi 50-50 posso mettere non so magari no 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 gli ideali gli ideali può mettere la famiglia all'interno degli ideali e quindi non gli ideali all'interno della famiglia quale di queste pietanze preferisce la coda la vaccinara piatto tipico romano tra l'altro nessuna di queste tortellini bistecca gnocchi di gorgonzola gnocchi di gorgonzola buoni buoni ci metti pure due noci perfetti mamma mia favoloso invece quale di queste automobili la rappresenta una panda 1000 turbo fire la fia che manco se me la regalo renault 4 rossa 600 grigia multipla o smart blue ma da eh lo so lo so ci sforzi abbiamo escludiamo la fiat ha detto rimane la renault 4 rossa e la smart blue il renault 4 è un grandissimo classico nel passato esatto bello allora quale di queste frasi di canzone invece la rappresentano di più Emma Marrone con è difficile dire che non siamo più gli stessi scusa ma vado via poi bandiera rossa la trionferà sono un ragazzo fortunato perché mi hanno regalato un sogno una mattina mi sono svegliato bella ciao ho viaggiato nel freddo senza volto senza età pilotando un corpo senza guida a Istanbul come canta Piero Pelù tutte canzoni particolari eh tutta roba particolare era tra le due tra bella ciao e bandiera rossa c'era qualcos'altro sono un ragazzo fortunato i giovanotti i giovanotti erano l'ultima uscita niente non le piace c'era qualcos'altro però si può anche distinguere no cioè lui fa belle canzoni poi magari ha detto delle cose sulle quali non è d'accordo però comunque fa delle belle canzoni la frase della sua accezione sono un ragazzo fortunato perché mi hanno regalato un sogno ci sta allora prendiamo quella e allora prendiamo quella mi sembra mi sembra giusta l'ultima è veramente l'ultima quale personaggio storico preferisce Leonida re di Sparta Napoleone Mustafa Kemal Taturk o Lenin e Otronski anche prometto che è l'ultima ma no Leonida Leonida mi piaceva anche in 300 è anche un bel uomo non fate questa cosa sessista no no a me doveva piacere perché è un bel uomo caso a me mi sarebbe piaciuto il fatto che era uno che con 300 uomini si è messo là davanti e allora se erano 300 donne avremmo vinto perciò vabbè dai Leonida Leonida ho finito ho finito siamo arrivati alla fine di questo test sta caricando è un test che sta girando molto in questi giorni no sta girando molto e dice questo quale personaggio del partito democratico sei tu stai attento a quello che dice adesso ma devi stare molto attento un tipo riflessivo gli ideali in cui credi vengono prima di tutto e per essi sei disposto a sacrificare quanto hai di più caro con me non sono Renzi si un tipo individualista non è Renzi non avverti la necessità di omologarti all'opinione dominante ma anzi la combatti anche quando sei consapevole che una lotta contro i mulini al vento non ha altro esito se non la sconfitta lo spirito di Civati ti guida adesso voi non la potete vedere la faccia è stato un piacere possiamo dirlo che se la taverna fosse stata del PD sarebbe stata Civatiana Dio santo uno che non sa manco lui chi è io mi dovrei sentire uguale a lui ma per cortesia vabbè sono quei test e così di Ciancio l'ha voluto fare io mi dissocio ma non ti riscosare fino a ieri diceva se facciamo nel test tornerò e porterò un test per loro per loro chi? voi due per noi che paura no 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 finché un test va bene ho avuto vedendo il suo sguardo però mi ha chiamato Civati forse domani ha chiamato a Diciancio Civati io non c'è io mi dissocio prima di salutarci vogliamo parlare di Ostia perché domani c'è una manifestazione veramente tanto importante è importante Ostia è stato uno dei luoghi che hanno dimostrato quanto il Partito Democratico fosse realmente invischiato in questa faccenda ricordiamoci che Tassone presidente di municipio nella seconda ondata di arresti si è visto portare via anche lui dopo che Orfini aveva fatto questi grandi endorsement sulle sue capacità e sulla sua onestà e noi domani ad Ostia ci siamo dalle 20 partendo dal porto di Ostia con una fiaccolata una fiaccolata per l'onestà per ricordare che ci sono a Roma cittadini e in tutta Italia che vogliono distinguersi da questa classe politica e questa è una maniera abbastanza chiara per farlo quindi vi aspetto è un piacere anche voi due si noi ci staremo senza dubbio Taverna stanno arrivando tanti messaggi su questo salutiamo beh complimenti per la simpatia ma questo lei già lo sa insomma che è simpatica devo sopperire alla non bellezza ma non ci butti giù così ci accusa per le battute e mo cercavo voglio dire avete fatto i complimenti a Leonida se no mi vengono dei dubbi adesso dovremmo dire ma no ma come non è bella poi diventa tutta una cosa così guarda che era per te hai fatto i complimenti a Leonida te facevo riqualificare arrivano messaggi chiudiamo con questo hanno paura di perdere la poltrona di sindaco di Roma ci scrivono tanti ascoltatori perché sarebbe la prima occasione seria per il Movimento 5 Stelle di dimostrarsi forza di governo e quindi una chiave anche a livello nazionale quanto c'è di vero in questo? molto molto loro hanno perfettamente contezza di quanto il Movimento 5 Stelle sia cresciuto sia in qualità come forza di governo sia nella percezione che oggi i cittadini hanno di noi hanno tentato in tutte le maniere di farci passare come quelli che eravamo questa meteora che non eravamo preparati che non eravamo in grado poi credo che persone come Luigi Di Maio che hanno dimostrato di saper tenere un'aula sicuramente meglio di come lo fa l'attuale presidente Boldrini o persone come Alessandro Di Battista come la Lombardi per dire i romani ma ce ne sono molti tantissimi sconosciuti l'Annunzia Catalfo che è poi la promotrice della legge sul radio di cittadinanza insieme a Daniele Pesco Toninelli ne potrei numerare tutti e cento quanti siamo rimasti? 130? ce ne so e vabbè non tengo i conti però tutti quelli che ci sono oggi sono lì per un sogno il ragazzo è fortunato se questo è il sogno che gli regaliamo non potevamo chiudere meglio che bello grazie veramente ancora grazie a voi a parola taverna che ci è venuta a trovare oggi vi ricordiamo che ECG Regione torna lunedì e ricordiamo